Musica Ultima giornata campionati Juniors di Roma, siamo qui con il vincitore della pistola automatica che è Antonio Ippolito della sezione di Candela. Tu sei un esordiente in un certo senso perché è il primo anno che vinci questo titolo. È il primo anno che riesco a vincere l'oro, ci ho provato due anni fa a vincere il terzo posto assoluto sempre di pistola automatica, quest'anno siamo riusciti a coronare il massimo del più alto gradino del podio, possiamo dirla così. In finale c'era un bel distacco con il tuo avversario negli ultimi gol. Sì, per fortuna sono riuscito a gestire bene la finale, riuscire a portarmi avanti con i punteggi vitale da sparare l'ultima serie che avevo già matematicamente vinto il primo posto. Dopo una gara abbastanza sofferta, la prima ripresa sparata malissimo per vari problemi e la seconda che mi ha portato a recuperare per entrare in finale col terzo posto. Quindi mi ritengo più che soddisfatto. Come mai hai scelto questa specialità? Non è una specialità semplice, forse è una delle più belle però. È una delle più affascinanti da vedere, quindi mi aveva già affascinato sin da quando ero bambino prima ancora di diventare junior. Nel primo anno junior mi sono dedicato di più in questa specialità delle altre, più per passione e per desiderio proprio. Infatti siamo riusciti ad ottenere vari risultati di squadra abbastanza soddisfacenti. Il secondo anno junior ho vinto appunto il terzo posto assoluto, l'anno scorso ci sono stati dei problemini vari, quest'anno siamo riusciti ad ottenere il massimo dei risultati. Quindi è una bella soddisfazione per Candela? Sicuramente sì, è stato il primo oro assoluto per la sezione. Vuoi ringraziare qualcuno, vuoi fare una dedica? Sicuramente ringrazio tutti coloro che mi hanno permesso di allenarmi in questi anni, in questi periodi e tutti gli amici che mi sono stati sempre più vicini. Grazie a tutti!